Non lasciate che forviate la locandina che può sembrare quella di un cartone animato di Scooby-Doo, Brooklyn 45 è un thriller horror solidissimo girato in tempo reale quasi completamente all'interno di una sola stanza in cui 5 reduci della seconda guerra mondiale si incontrano per evocare con una seduta spiritica lo spirito appunto della moglie morta di uno di loro. Lo spirito stavolta si manifesta e la moglie è incazzatissima non soltanto con loro ma con la ragazza che vedete lì alla sinistra che è una tedesca che abita nella stessa strada dove vive questo reduce che viene accusata di essere una nazista ma sarà veramente una nazista? Un film in cui tutti sono contro tutti, in cui vecchi rancori, vecchie scorie vengono alla luce, in cui i buoni diventano cattivi e viceversa, in cui lo spirito tenta di fare incetta di tutto e di tutti, in cui la tensione si taglia con il coltello e non mancherà nemmeno un finale horror splatter degno di questo nome che piacerà ai veri intenditori. Vi consiglio questo film perché veramente è fatto bene ed è ben recitato, sembra una pista teatrale ma non ha noia.